1993 2023 trent'anni di terremoto secondo voi i litfima hanno celebrato la cosa no non hanno fatto una beata minchia ma era normale che accadesse ciò quindi praticamente adesso possiamo dire che i litfima non solo si disinteressano di questo fantomatico live dell'ultimo girone che dovrebbe uscire dovrebbe uscire nel senso non che si sappia qualcosa in realtà non uscirà dovrebbe in senso assoluto in senso morale dovrebbe uscire qualcosa ma non uscirà un cazzo le litfima si disinteressano se ne battono la ciolla totalmente anche degli anniversari delle ricorrenze non è uscita una sega perlomeno al nome litfima ci ha pensato però un'altra piccola casa discografica editrice soprattutto la rino records terremoto picture disc se volete vi metto in descrizione il link non so se ancora lo trovate perché appunto sono poche copie comunque io ve lo metto nel sito dove l'ho comprato è un negozio di dischi normalissimo c'è anche qualche altro punto dove potete trovarlo picture disc edizione limitata e numerata 1933 2023 30esimo anniversario rsd black friday perché perché poi vabbè novembre 24 2023 perché questa cosa è uscito il 24 novembre ma che cazzo che cazzo serve che che se qual è il significato di mettere la data in cui è uscito questo disco totalmente a caso perché terremoto è uscito l'otto gennaio 1993 ci avete messo poco cioè siete arrivati proprio pelo pelo a fine anno per riuscire a farlo rientrare nel 2023 dio cristo in genere queste cose si fanno alla scadenza delle ricorrenze perché farlo così un giorno a caso vabbè edizione numerata tra l'altro vorrei farvi notare se avete seguito un po i video quanto io stia proprio più franando totalmente senza ritegno verso l'incoveranza più totale perché allora questo è il primo picture disc che ho perché non ne ho mai capito il senso cioè ho i dischi perché devo ricomprarli ora a livello estetico sono allora sono quella cosa che ormai questo l'ho preso perché è attuale è uscito adesso allora ve lo volevo far vedere magari poi non sono tantissimi acquisterò anche gli altri picture disc perché sono una minima variante visto che ho anche questo sapete ormai totalmente che la mia demenza senile mi riporta a ripetere le stesse cose tutti i video magari da esporre solo forse solo il disco avendo la grafica le versioni pdk hanno la grafica stampata sopra il vinile è una variante che forse un po di senso può averla non ce le hanno le riedizioni che magari hanno il vinile blu poi ultime parole famose a questo punto credo che tra un po mi vedrete riprendere anche tutte le stampe colorate c'è l'esapare sido blu quell'altro trasparente comunque le ricorrezze sono importanti queste cose in genere si fanno alla data uscita di un disco l'otto gennaio dell'anno scorso mi aspettavo una celebrazione qualcosa per il trentennale invece no niente però va bene però almeno qualcuno ci ha pensato se aspettavamo lì bastavamo freschi che altro dire edizione numerata magari è da rivendere tra qualche tempo se non me ne smetterà un cazzo cioè per lo meno dietro c'è scritto 1993 2023 in effetti c'è una sorta di nei crediti una sorta di valenza di edizione per il trentennale cosa facciamo l'apriamo ma sì dai che non è venuto a tenere la sigillata sono non sono con tanto convinto se mantenere preservare questo quindi fare molta attenzione o strappare tutto come non ci fossero domani io direi che questa cagata qua del 24 novembre è da tenere quindi in qualche modo poi la reinseriremo comunque andiamo a vederlo andiamo a vedere sto come è fatto allora da chiuso diciamo che la copertina viene completata totalmente dal dal picture disc adesso poi vediamo perché dalle immagini pubblicitarie sui siti ho visto una cosa e spero che sia stata una elaborazione grafica del momento e non sia così il vinile che sennò è veramente una puttanata comunque lo apriamo va bene questo qui lo teniamo con cura e poi lo ritagliamo e mettiamo questa bellissima etichetta informativa che per ricordarci che il 24 novembre è uscita sta cagata cristo attenzione a non rovinare troiaio e lus non mangiare la plastica interessante questa parte per il video ma mamma mia che contenuto di alto livello bel lavoro in realtà a parte ste cazzate del degli tagliandini eccetera chi se ne frega la cosa veramente odiosa è questa porco d***o ma dai ma il bollino si hai sopra la plastica come cazzo faccio adesso io di nuovo devo ritagliare madonna p***a e poi come non collo cioè va messo sopra i cd madonna sopra i dischi va messo sta roba cazzo ma che palle cioè teoricamente una volta tolta l'etichetta quello non è una volta tolta questo non lo potete vendere perché dovete per vendere dovete avere il bollino si hai madonna p***a io non lo so adesso devo incollarlo ecco come temevo ragazzi ve lo faccio vedere forse allora vediamo se capite cosa intendo cioè ve ne vedete conto cosa cioè guardate come l'hanno ritagliato perché perché ritagliare i bordi così cioè praticamente sembra scontornata male l'itfiba è proprio tagliata cioè si completa solo con il resto della cover ma è abbastanza carina come non si vede un cazzo non c'è luce di me la luce o riflette aspetta tiriamola fuori magari si riesce a vedere bene peccato perché comunque la stampa è ben fatta peccato io avrei optato per mettere tutta la stampa completa della cover sopra il vinile e avrei fatto semplicemente una rielaborazione della grafica qua senza ovviamente la parte ritagliato che è rimasta qua anche perché poi sopra il vinile non viene scritto terremoto è brutto rimane solo qua avrei mantenuto una rielaborazione grafica allo sfondo questo sfondo magmatico non ho mai capito cosa ricorda la lava no? avrei fatto tutto così tutto rosso e il cd che contenesse al suo interno tutta la grafica così è un po' una caccata ciao 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 Grazie a tutti. Poi dentro è uguale, identico con il vinile originale, con i testi, le foto e il retro. Terremoto, un disco importantissimo che secondo me meritava una celebrazione ufficiale. Poi neanche sulla pagina ufficiale, perlomeno condividete la notizia che esce. Neanche quello, non hanno neanche condiviso la notizia che usciva sta roba. Non lo so, andiamo a controllare. Poi magari in realtà me lo sono perso io e ne hanno parlato. Però meglio, meglio controllare perché sai, su internet la gente è senza pietà. I commenti su internet sono senza pietà. Sono anche senza punteggiatura, ma questo è un altro discorso. Allora, vediamo, magari in realtà Litfiba, Litfiba ufficiale. Vai Litfiba ufficiale, l'ultima cosa è sta cazzo di roba dell'ultimo girone. Sì, comunque 23 dicembre 2022. No, niente, perché nel 2022, quindi nel 2023, Litfiba sulla pagina ufficiale. Magari Piervelù, forse Piervelù. Vediamo se Pierone ne ha parlato. È una foto. Buon compleanno Litfiba ufficiale. Il gruppo della mia infanzia e della mia adolescenza è ancora oggi a 40 anni Rocca Italiano. 40, vabbè. Se volete continuare a dire che Litfiba ha avuto 40 anni di carriera, dovete considerare ufficialmente, sul sito ufficiale, un po' dappertutto, legittimare i dischi di cabo, come è giusto che sia. E poi dovete convincerci, quei 6-7 anni in cui non avete fatto un cazzo, che Litfiba c'erano. Ma in realtà non c'erano. Facevate i cazzi vostri. Comunque, vabbè, qui c'è Piero in studio che registra il nuovo disco, aiuto. Se noi scorriamo in giù. Qui siamo ad estate. Andiamo veramente l'8 gennaio, all'inizio dell'anno. Magari ne ha parlato. Musica Libra quando è uscita? 13 aprile. Ancora un po' prima? Niente, perché qui c'è Piero Pelù, quando è questo? 30 marzo. Andiamo giù. No, infiburazione. Vuoi rivedere. Oh, ne ha parlato, incredibile. Terremoto, quello che non smetterò mai di suonare dal vivo. L'8 gennaio. Ma no, Piero, ti avevo considerato male. In realtà te lo sei ricordato. Però non avete fatto un cazzo. L'avete solo detto che è uscito il terremoto. Ci ha voluto la Rino Records. Vabbè, allora abbiamo scoperto che Piero... Però che la pagina ufficiale di Litfiba non dica niente. È lì che ci dovrebbe aspettare informazioni. Vediamo Ghigo. Allora Ghigo. Foto del repertorio. Va bene, oggi ovviamente, quando registro questo video, non so quando uscirà. Comunque oggi ovviamente è il 6 dicembre. E se l'ha ricordato il debutto di Litfiba. 43 anni. 43 anni. Ma allora Ghigo lo può dire. Ghigo lo può dire. Perché comunque lui ha suonato con Cabo nei Litfiba. Ci sono stati sempre. Diciamo è più legittimato dal mio punto di vista. A dire 43 anni di Litfiba. Leggermente meno Piero. Però anche lui comunque si è risolati tante. Ecco, c'è Ghigo in palestra. Ma che bell'uomo. Che bell'uomo. Vediamo, ascoltiamo anche per lui. Allora, in realtà il 24 novembre è uscito, ma... Questa stronzata di disco... E no, non ne ha menzionato di questo PC o disc. Vediamo se... Andiamo anche per lui fino a gennaio. Nel 2023... Boh, qui quando è? Il 2022. 15 settembre. No, non mi pare di vedere nulla. Cos'è sto video? I ritmi latini siamo in perfetta simbiosi. Mi casseranno il video? Ah, meglio non mettere l'audio. Magari l'ha messo in una foto? 3 novembre. 3 novembre? 22. Non sei molto attivo, eh. Sono 69 anni. C'è una mano. Ho sempre armato il blues. Questa è la mano... Dovrebbe assomiglia alla mano del mitico cofanetto mano. Che nessuno sa come si chiama. 27 dicembre del 2022. Più su Ucraina. Qui c'è colpo di coda. 29 gennaio. Eh, no. C'è il firmacopio della versione quella bianca. Di vinile bianco, credo. Prevedo durante l'autografia della ristampa di colpo di coda. In uscita il 10 febbraio. Quindi, se questa data è il 29 gennaio, avresti dovuto dire qualcosa qua. Qui cos'è? Niente. 27 gennaio, poi c'è l'Ucraina. Jeff Beck. Ha fatto con lui. 12 gennaio. E qui sei in studio a fare i cazzi tuoi. 6 gennaio. Niente. Gigo non si è ricordato che... Non ha memorabilia. Non ha memoria. Niente. E cosa dobbiamo fare, ragazzi? Se l'ha ricordato Piero, come mettendo la copertina di terremoto. Basta, questa è la celebrazione che l'Itfiba, tutti, hanno fatto. Andare sul profilo di bagni? Dove devo andare? Cafforio avrà detto qualcosa? Io Cristo. Almeno rilanciare la notizia, informare, far vedere che comunque la pagina è attiva. Per lo meno nelle ricorrenze, nel revival, nell'amarcord. Parliamo della ciccia, però. Sono passati 30 anni. Questo disco è invecchiato bene o male? Allora, ultimamente ho sentito gente un po' ridimensionare l'importanza di questo disco perché, un disco coraggioso, perché in quegli anni venivano fatti ovviamente saltare in aria, magistrati, eccetera. Ovviamente era un periodo dove si respirava un'aria abbastanza pesantina, quindi proprio per questo l'Itfiba hanno parlato di omertà. In questo disco hanno parlato di mafia e di tanti altri temi. Il disco più duro dell'Itfiba. Però, diciamo, il periodo clou, quello veramente dove Falcone e Borsellino saltavano per aria, dove c'erano bombe, attentati, terrorismo, la poi successiva trattativa, stato-mafia. Sono cose successive all'uscita. Quindi qualcuno ha cercato, ho sentito dire anche tra i fan, ridimensionare la cosa come che abbiano fatto questa cosa un po' in maniera incosciente e ben se ne sarebbero guardati da proporre un disco con queste tematiche, con queste accuse, vedendo quello che succedeva nel paese. Cazzate! Perché poi il terremoto tur, la gente si scorda che è stato uno dei più ignoranti, pesanti, dove queste cose venivano, le stazioni venivano cantate e Piero ci andava giù pesante. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, anzi diamo a Piero quel che è di Piero per la scrittura di questi testi e il coraggio comunque di denunciare. Questo non levate, possono starvi sul cazzo, possono non piacervi il Itfiba anni 90, potete credere e dire che i Itfiba sono finiti con Maroccolo, sono finiti dei Itfiba, ma questi erano grandi Itfiba e tanto di cappello per il coraggio di Piero per continuare a sporsi in questo modo socialmente, bei tempi andati. Ci mettiamo una foderina, così non si rovina. Ma tra l'altro sulle foderine, parliamo di questa cosa, è molto più interessante perché tanto, voi mettete le foderine dei vinili con l'apertura sopra o laterale? Perché normalmente, per come sono fatto io, come funziona la mia cazzo di testa, sarebbe molto più illogico metterli con l'apertura per, diciamo, verticale, di modo che si può prendere il disco anche tenendo il resto dei dischi negli scaffali e poi anche per una questione della polvere perché preserva. Il problema è che se si mettono così non sono pensate per metterle così, sono pensate per metterle così perché sennò si arricciano, fanno delle strane gobbe e appoggiandoci in altri vinili poi si pieguzzano tutte, cioè non so se sarà stato sfortunato io ma queste questi foderine sono pensate per mettere i vinili così. Sono anche di ottima qualità, nel senso pagate un bel po', sono le Spinkhead Crystal. però trovo una cazzata che si aprono da sopra, che sia quello il modo per metterli. Donna, non ho la capacità dei Sapiens, eh, io. Il pollice opponibile è un'opzione, quindi così, così, con l'apertura sopra. Quindi le vanno messi, le devo mettere su degli scaffali molto stretti di modo che siano comunque preservati il più possibile dalla polvere. Mettiamoci il nostro bellissimo tagliandino che ci ricorda che il 24 novembre è uscito questo disco. È demenziale sta cosa. Boh. E lo mettiamo via in attesa di tempi migliori per rivenderlo. No, dai. Quindi, teniamocelo, teniamocelo, ormai la mia collezione è disordinata. Niente, questo era un video molto breve, ve lo solo per farvi vedere sta roba. I tagliandini preziosissimi e... Dov'è? Eh, qua. Comunque il tagliandino e il bollino si ha e sono preservati. Voi l'avete comprato, ditemi qualcosa. Come ne pensate di terremoto? Poi arriverà ovviamente, là nel tempo, la recensione di terremoto. Questo è un breve video per farvi vedere sta roba e mi interessa sapere se voi l'avete acquistato, vi interessano le versioni picture disc, le avete, cosa ne pensate di questo disco? Fatemelo sapere nei commenti e ovviamente restiamo umani. Grazie a tutti.